Le due ruote a raggi percorrono la scia di Torre del Greco. Stasera nella città del Corallo arriva uno dei ciclisti più amati d'Italia, Vincenzo Nibali. Lo squalo dello stretto sarà nella città vesuviana, ospite in una serata, organizzata dal team Black Panthers. Abbiamo scelto Torre del Greco perché quest'anno ci affiancheranno i fratelli Balsamo che ci daranno una mano a sostenere questo fan club e la nostra squadra. Oltre al fan club ho una squadra di amici ciclisti, team Black Panthers, cicli Magnum, con sede a Scafati e con la nuova sede qui a Torre del Greco. L'evento è solo una delle iniziative realizzate dal team Campano per diffondere il mondo del ciclismo nell'area vesuviana. Come specifica il coordinatore Francesco Vitiello. Un momento dedicato ai fans in quanto Vincenzo sarà disponibile a tutti con degli autografi, delle foto e risponderà anche qualche domanda a qualche giornalista. Ho voluto proprio con tanto affetto averlo qua a Torre del Greco perché sto coordinando questa squadra con passione per far conoscere il ciclismo anche a Torre del Greco.